Ciao a tutti ragazzi, stiamo a Giorgio Lemo e benvenuti in questo nuovo video di Yashon. Oggi sono carico da Yashon al Digital Adventure. Penso che sia un nuovo anime, per adesso penso sia solo in Giappone. Comunque speriamo di vederlo anche qui in Italia, cioè non solo in Italia ma anche da tutto il resto del mondo. Perché i Digimon sono belli e quindi perché non farò una version a questi trailer, via! Questa è la version che ho trovato da tempo, ancora prima di Natal, se non ero. Non so quanto pubblicherò, però ci sta. Ecco qua i nostri primi Digimon. Cioè i nostri primi Digimon, siccome sono vecchi i Digimon. Cioè se c'è anche quelli, beh li ricordo, non erano neanche nella prima serie. Io mi ricordo questo qua, cioè la specie di Deliver, è un Deliver e anche il draghetto quello blu. Eccomi, eccomi tornato. Ma è ancora uguale a questa trailer. Sì, è ancora lo stesso. Identico identico. Ma penso di avere un altro dopo. Dopo vado a cercarlo. Eh! Ma smettila, uffa! Ah, è in inglese tra l'altro. Pensavo fosse ancora in giapponese. Ho già finito anche questo, mamma mia che scandalo. Ok ragazzi, sono tornato. Sono tornato. Ah, via. Fino a questa qui, da solo 50 secondi. Mannaggia il diavolo. Che cosa capirete che c'è qualcosa che non va perché... Mi si è stosa la querca. Questo qua è Tai. No, ma sul serio è Tai. Devo guardare qua, perché altrimenti c'è un gastravico. Ma non ce la faccio più forte di me. Quello è Agumon. Quanti ricordi? Agumon! Sei tu il mio compagno. No, ma ragazzi è il top. Speriamo sia un gioco anche. Io voglio il gioco per Nintendo Switch. Voglio... Digimon, vabbè. È già finito anche questo. Ragazzi è tra poco. Eccomi qua, ovviamente con un nuovo trailer appena uscito di Digimon Adventure. Questo qua dura 35 secondi, quindi vi lascio immaginare. Ma no, ma quella cosa? Non era... Oddio, come si chiama? Assomiglia è un casco. Non aveva un nome quello. No, ma ragazzi. No, no. 1299? Il 2020? No, ragazzi! Digimon Adventure. Dai, io voglio per Switch. Aprile 2020 in Giappone. Ahhhh. Perché in Giappone non... Eccomi tornato... Con una nuova... Oh mamma! Con una nuova 10 andedici. Ah, ma qui la presentazione come la prima? Con le caratteristiche nella zoom e la prima... su base prima. Che personaggi uguali ai Pokémon! Qui stanno spiegando il tutto. Chi è questo? È un nuovo mostricciatto! Oh, cos'è? Ehm... Digimon in real life! Ah, qui spiegano... Ok... Digimon in real life! Ah, qua? Ok, come ho fatto a disegnare? Bellissimo! Ci sta! Ci sta! Mi piace! Qua i loro personaggi... Mi stile è proprio... Non ci sono anche le figurine? No, ma qui stanno spiegando tutto... Buon per loro! Buon per loro! Buon per loro! Dai, forza! Sei quasi finito! C'è voluto? No, ma che carino! E' un mini metagremon! E' un mini metagremon! Garurumon! Garurumon! Metagurumon! Top winner! Garurumon! Carino! Che solita scena! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Ci piace! E' finita! Manca un minuto! Sempre il nostro agumon! Ma poi lì è Tai! E' Tai cresciuto secondo me! Magari... Pensate voi che bello! E' Tai che si rincontra con... Digimon... Con Agumon! Dopo... Parakian! Ma... Pensate che è bello così così! E' del marzo sempre su Digimon! Wow! Va bene dai! Ragazzi io vi saluto! Vi ringrazio per la visione! Se il video vi è piaciuto spollicciate! Se non siete iscritti e iscrivetevi! E non ci vediamo al prossimo video! Bene ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!